Nome? Paolo. Per gli amici? Svaller. Caratteristiche? Sovrappeso! Devi dire in sovrappeso. Ma diciamo una cosa inerenti alla pesca. No no ha ragione, ha ragione. Caratteristiche inerenti alla pesca, tutta l'attrezzatura in sovrappeso. Anche l'attrezzatura in sovrappeso. Anche l'attrezzatura è... No canne dure per pesci grossi. Può andare? No cosa volevi fare? Mettiamo attrezzatura pesante per pesci pesanti. Caratteristica tua. Caratteristica mia? Non russo. No vabbè caratteristica mia... Cufia storta. Cosa potrei pensare di me che gli altri pensano? Disordinato? Sbam!